Ciao a tutti, benvenuti su Tech Gaming e in questo nuovo video di Animal Crossing New Horizon vi parlerò della giornata internazionale dei musei che si celebra oggi, però in Animal Crossing dura da oggi fino al 31 maggio In cosa consiste la giornata internazionale dei musei? In pratica, se vi recate da Blatero al museo, avete la possibilità di collezionare dei timbri da consegnare poi a Blatero per avere delle ricompense Ora, vediamo un attimo in cosa consiste, tra virgolette, questa sfida, questo minigioco, quali sono le ricompense, eccetera La prima cosa da fare è parlare con Blatero, io già l'ho fatto Parlando con Blatero vi verranno consegnate delle schede Quindi, adesso dovrete, per illustrare tutto il vostro museo, è indipendente il fatto se avete o meno determinate specie oppure no Anche se avete il museo completamente vuoto, è indifferente Dovete trovare questi carrellini, questa sorta di banchetti, per così dire, con le ruote e l'icona di Blatero E interagire con esso per ricevere il timbro che dovrà poi essere posizionato sulla scheda Ci sono tre schede, una per ogni, diciamo, sezione del museo E tre timbri da collezionare per ogni sezione Quindi sono nove timbri Una volta che avete completato una scheda, tornate da Blatero, parlate con esso Che si congratulerà con voi e vi darà una ricompensa Ci sono tre ricompense, che non sono chissà che In altre parole, sono delle targhette d'oro Se non ricordo male, adesso ve le mostro Da esporre dentro casa Praticamente non potete esporle nemmeno nella vostra isola Ma dovete tenerle dentro casa Quindi, se completate la prima scheda, avete il primo premio E così via dicendo Una volta che vi verrà dato il premio Tornate a casa e lo appendete al muro Ora, io l'ho posizionato nella mia collezione Ve li mostro Scorriamo giù Vediamo se li trovo Eccoli, vedete? Placca fossile Placca insetto Placca pesce Prendiamo ad esempio Placca fossile E adesso lo appendiamo al muro Quindi selezioniamo la placca fossile Scusate E faccio Usa sulle pareti Qui non posso metterla Ovviamente Quindi La metto su una parete Tipo questa Ok Come vedete Avete questo bel trofeo Da esporre Nella vostra abitazione Quindi ci sono Tre Tra virgolette Ricompense Tre trofei Che potete ottenere Da Blatero Nel modo in cui Vi ho detto Quindi Parlate con Blatero Per ottenere le schede Interagite con i vari banchetti Per collezionare i timbri Tornate da Blatero Ogni volta che finite una scheda Per ricevere una differente ricompensa Grazie